Il lavoro dei tavoli è andato bene, al di là di quello che dicono i programmi, nei tavoli si parlava, certo se guardi solo senza ascoltare quello che si dice nei tavoli, pensi che se faccia da qua, invece nei tavoli si discusseva. C'è chi commenta, ho sentito dei commenti che è più una convenzione da Anci che politica, da Anci, da regioni e da sindaci. Mi pare che abbiamo parlato molti imprenditori, ragazzi, ragazze. Sì, ma si confonde il piano politico con quello sociale. Insomma, che i piani politici e sociali si confondano non mi pare una cosa negativa. Non mi pare negativo che si intrecino il piano politico e il piano sociale. Quindi si porta diritto verso il premerato Renzi? No. Sì, io sostengo lui. E per quanto riguarda Kuperlo e le altre persone che si sono presentate, cosa pensi? Ma bene, Gianni lo conosco da molti anni, da vent'anni, ha una conoscenza, è una persona molto intelligente, molto seria, grande estima. La Premiership con la segreteria del PD, la dividi? Nel senso? Ma no, io credo che neanche Gianni voglia una cosa del genere. Nel senso che chi vince il congresso governa il partito e chi è in minoranza lealmente cerca di stimolare la maggioranza, come avviene. Non credo che neanche Gianni sia interessato, a meno che su molte cose mi auguro che si possa convergere, probabilmente sono più le cose che uniscono che le cose che dividono, altrimenti non saremmo nello stesso partito. Quindi Renzi come segretario e come premier? Sì, io penso che debba rimanere questa la regola. Va bene, grazie, ciao.